È bello avere TeamSmart. Puoi avere chiamate da fisso, fibra ultraveloce, Team Vision con oltre 10.000 titoli tra film, cartoni e serie TV, chiamate e giga da cellulare. Tutto insieme per comunicare dove e quando vuoi a partire da 29,90 euro al mese. E il primo mese te lo regala Team. Vieni nei negozi Team o chiama il 187. Vieni nei negozi Team.